Nella parrocchia di San Matteo Apostolo a Cannara è iniziato il ritiro dei ragazzi del dopocresima che si terrà fino alla terza settimana di luglio. I giovani suddivisi in due gruppi seguono percorsi svolti in parallelo su tematiche adolescenziali. Lo scopo è quello di aiutarli ad orientarsi nel loro percorso di crescita. Durante il primo incontro un gruppo ha riflettuto sul tema dell'empatia e della compassione utilizzando il termometro delle emozioni per capire come ciascuno vive le emozioni in maniera differente e come sia importante rispettare i tempi di ogni persona. L'altro gruppo ha iniziato un percorso base per individuare la differenza tra emozioni e sentimenti utilizzando la mappa delle emozioni per condividere i traguardi che ciascuno di loro vorrebbe raggiungere nel lasso di tempo che arriva all'età adulta.